Siamo a Monza a provare la nuova SLK 350 benzina, 306 cavalli la potenza erogata. Ci ha stupito da subito un rapporto di sterzo molto diretto, quindi serve poco angolo appunto per girare il volante nelle coppie. Un buon setup dà una buona sensazione di sportività e di un ottimo comfort, purché si rimanga per strada, quindi una guida berlante per strada viene appunto appagata, mentre in pista troviamo un setup troppo blanco, quindi si ottiene subito un sottosterzo, un sovrasterzo qualora si forza un po' la mano. L'SP poi non è mai disinseribile del tutto, per cui esagerando un po' con le velocità in curva si ha sempre un controllo appunto dell'elettronica sempre vigile, per cui pilota che ci sa fare si trova un pochino meno mato appunto nel gestire le reazioni della vettura. Come dicevamo il comfort è molto buono, sia per un discorso autostradale di insaccamento che anche di assorbimento su strade ruote. Per la prova approfondita vi aspettiamo in edicolo sul prossimo numero di gente motore.